Una folla straripante attende l'esibizione più sensazionale del secolo. Radiocronisti, cineoperatori, giornalisti sono qui raccolti per riprendere ogni dettaglio della sfida alla morte che una fanciulla lancerà tra poco dalla cima della torre. La curiosità morbosa del pubblico rende palpitante l'attesa. È uno spettacolo senza uguali quello che si presenta ai nostri occhi. Lo sguardo della folla è fissa verso un punto solo, la torre. Tra pochi istanti l'audace fanciulla apparirà. Ma ecco che il pubblico ondeggia, le mani indicano la torre. Sì, è lei, eccola, è proprio lei. Il pubblico sempre generoso con gli audaci applaude. È un saluto alla coraggiosa fanciulla o un incitamento? La fanciulla si prepara. Mette il casco. Il pubblico tace e segue palpitante. Un cavallo bianco sale la pedana che conduce alla torre. Un silenzio di tomba è caduto improvvisamente su di noi come una pesante cappa di piombo. Solo i radiofronisti commentano dettagliatamente i preparativi del salto della morte. È calma, pronta per la sua esibizione. Avanza verso l'abisso. Nel fondo il mare, forse la morte. Ogni secondo appare un secolo. Ecco, il cavallo è ora proteso. L'istinto di conservazione lo fa desistere, ma la fanciulla è decisa e spinge l'animale verso il vuoto. Il salto fatale si compie. Ecco, precipita. Il volo verso la morte. Cavallo e amazzone aggrappati a un unico destino. Lo spettacolo è finito. Torneranno alla vita o una tragedia è ormai compiuta? Denti bianchi, bocca fresca. Sì, colgate con gardol. Il dentifricio colgate con gardol rimane attivo per 12 ore e più. Usatelo ogni mattina. Avrete una sicura difesa contro la carie e la bocca fresca per tutto il giorno. Denti bianchi, denti sali, bocca fresca tutto il giorno. Quando usate i colgate, i colgate con gardol. Provate colgate. Usate colgate con gardol.